ben tornati in un nuovo video e bentornata simona in un nuovo video visto che la tua faccia ormai allora riconoscono più sei svegli allora come l'unico ieri si sono costruiti ma la piscina fredda un cucciato solo un chilo che ho annunciato ieri quindi questa è una modalità pisciana una tappisciana credo fare il gruppo ma lo fa praticamente sempre il nome così comunque andiamo a gatto io e l'altro magazine l'abbiamo trovato ma guarda si tratta di meccati del meccati luglio del tempo allora ma avessi l'aiuto pure io ma aspettate che questa dopo dopo dammi a me allora vabbè lasciamolo su colora c'è scritto colora colora potete colorare c'è barbie e le sue sovelline c'è bau bau c'è ciao colorate ora andiamo a vedere il magazine a giro cosa faccio giro giro ma tu hai già visto quello no ma è sempre uguale ma no se lo giriamo ok noi abbiamo preso questa uscita del 10 luglio in edicola abbiamo preso ma questo poi guarda quell'altro non è questa un'edizione speciale e che ne so io non mi ricordo e non me lo ricordo ma le viste ieri no questo sì no ci sono manche storie c'è la storia non è così però le storie anni 90 devo leccare il dito per far girare la pagina questa è la storia andiamo veloce nella storia perché così non la leggete ve lo dovete accattare perché cattiva che sono basta e i vari e qualcosa riesci a trovare si troviamo la scelta ecco qua non l'abbiamo trovata per vedere questa andate su un pacchetto magico collezionismo tela lui l'ha trovata che cos'è crea il tuo stile che ne so io crea il tuo stile sarà la barbie in vendita ma non girare non girare la borsettina ecco non lo so vediamo colora dei colorare colorate di colorare andiamo a centrare di e se uno non ha le matite ma dai colora o questi c'erano figo non c'erano sono io desideri ma sei più buona che c'è per babbi celsi no qua c'è i bau bau bene bene mi piace qua c'è il vestito da colorare qua fate quello che volete il mio disegno a poi devi inviarlo a a babbi a mattelitaly mia roberto brappa milano è stato qua queste queste barbie che a me non mi piacciono non lo so se lo prenderò andiamo ma quando ai quali adesivi che troviamo a live la meraviglia va bene dai qua a tutte le faux pic amico queste sono le foto che ci sono su instagram ma da ma da lei è quella della barbie che c'è su istana e ma però potevano scrivere di chi erano e allora rubano le foto su istana qua c'è altra storia vado veloce così non la leggete veloce un par di ciuffoli ok oriche andiamo qua sono due giochi i disegni cosa c'è nella scatola bocca ne so io ah si gioco da fare bello bella sfida da fare con su youtube sarebbe bello cosa c'è nella scatola va bene quale prossimo allora il 5 agosto la tennista bella teresa e la pallavolista questa vabbè già ce l'abbiamo e le celsi dal 15 luglio quindi da oggi da oggi le celsi ma che bello tommy biondo vabbè quanto è bello il sito quest'anno niente mad vedi youtube vedi segui i canali di barbie e qua sono le carte non abbiamo le carte a c'è la sacca che qualcuno ha trovato e qualcuno no che c'è la il pallone le carte e la barbie dentro trendy vabbè trendy 8 euro la compri però bella la sacca nel complesso le carte 1 noi abbiamo quelle di di mouse niente qua nessuna ricetta da fare ho lanciato il giornale presi di cazzina cazzino allora passiamo alla barbie la scatola la skipper ah si la skipper ah ah la skipper non sono abituata ah si so faccio solo barbie scatola uguale lei è qua c'è eh 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 disegna lei molto bella qua è molto bella qua ah mi ha sai cazzino 2 e vuh e sui você e vais off mai barbic 3pv ciao qua andiamo dietro tanto poteniente della scatola, però puoi prendere questa e fare un quadro si, guarda vedi, mi ha preso da mamma, un bel quadretto, si, oh yes hai sentito? come si sta? sembrava una scorreggia? no, era una moto, era una moto, era tipo passata è passata, accelerando ha fatto un boom no, perché se no se non mi sentite doveva passare vabbè comunque la moto scoleggiona, potete soffrire del quadretto, anche questi qua e questi, vabbè vedi, vedi questa, questa è l'altra uscita col magazine andate su video storie di plastica e lui l'ha appartato, ambasciata e col magazine e io direi di, va comando, andiamo a prendersi una no, questo qua potrebbe essere un tablet, quindi due tablet, ma lo schermo è qua, perché ne vai in cucina? cosa stai facendo, tre anni capire la scatola, insomma ma cos'è la micollata? non te la voglio far aprire? guarda è, simona? insomma, insomma tre anni capire la scatola cos'è sta roba? dammi, vai? dai, prendi la coppia no, una mattina cosa è successo con queste gambe? Ma guarda è bruttissimo Questa qui non è niente dritto Sembra che è stata cucciata Guarda Oh dai non stare lì a fare il gingiolare Un gingiolare E allora è liberato o no? Che problema non è liberata qua Allora Sono molto rotto Potevo prenderlo su Vabbè niente Se volete utilizzarlo Se non riusciterò Magari comunque Potete magari utilizzarlo Perché fate però E' più carino fare il quattro Ciao Fate quello che volete Scusami eh Scusami Ma cosa fai? Dai vedremo Allora Che cosi qua Questa è la città E' molto Con le gambe Diverse C'è qua è lucida Qua un po' più ruvida Qua più lucida C'è Guarda Eccola qua Vedete Il distacco qua Qua è più chiaro Qua più scuro Ormai tutte le barbe Sì ma sembra che è stata Pucciata Guarda Lei è snodata Ok Perfetto Molto dura Cioè E' molto stabile Dura Allora Veniamo a lei E' E' Mold Quello nuovo Non so Non mi fa impazzire Questo mold No è bello Però E' Non mi piace Tanto il mold Vabbè i capelli sono castani Fino al Quasi il sederotto Il sedere qui Con la ciocca Viola E' Ma Ma L'occhio storto Però sarebbe bello Tu Tu vedi L'occhio storto Io non vedo L'occhio storto Beh Allora La maglietta è una shirt Con scritto Malibu Skipper Qua il numero 10 E qua c'è le palme La barchetta E' nera Rosa Gialla Azzurra Arcopaleno Insomma E' Composta da uno strap dietro Strap Strap Tutta la maglietta Ok Adesso si attacca Fra un po' no Il pantaloncino No shorts Con I cami Triangoli Quadrati Azzurro Con il zilinato Giallo Anche Anch'esso Con Ah Adesso ci dà C'è tipo Dei triangolini Quadrati Anch'esso Con Velcro E Nada Niente Ciabat Ciabat In dotazione L'infradito Danno le Infradito Viola Che viola C'è zecca niente Il viola è il colore di Skipper Si ho capito Però non c'è zecca niente Con Ma è il colore di Skipper Eh ho capito Allora potevano fare costume viola Cioè cosa mi significa Azzurro in teoria Il celeste Questo qua È il colore di Cioè Allora Maietta Rosa Gialla Azzurra Nera Bianca Viola Tutto E Poi Danno in dotazione La medaglia Perché Skipper è grande Non è grande Ha vinto Ha vinto È una grande Ha vinto No è una grande Ha vinto Eeeh Ho vinto Yeah paru Yeah paru Yeah 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 Ho vinto Ho vinto Dove Di adozione c'è anche Il surf Il surf Allora Il surf È molto bello C'è la palma Il logo che c'è Stesso sulla maglietta Surf Malibu Strisce bianco Poi qua Metti i piedi I pidonzi E qua Il piede È il laccio Quando tu Ti vai su Da salvo Ah sì E questa è la caviglia La caviglia Rimane legato Molto Ma adesso andiamo a montarlo Allora Togliamo le Ciapettine Così E poi Sì Non stai in piedi qua No Secondo me Non stai in acqua Ma va Non stai in piedi Magari devi mettere un po' Col culo in fuori Sì Vabbè Tu fai surf così Così E non lo so Eeeh Così Ma no Madonna Ma no Ma neanche così Uno fa surf così Cioè Ok Così fa surf E ma se non stai in piedi Aspetta Qua Aspetta Magari se la Eh Ah era la ciabatta Scusa Ma no Ma guarda cosa c'è sotto È impossibile che stai in piedi Se c'è sta Quello Ma magari l'hanno fatto qua Oh Oh Come mamma l'ha messa Eeeh Wee Ardo e c'è Fia la medaglia mia Sì perché tu la metti in piedi Ciccia Stai in piedi Però è molto Non la toccate Perché se no Barcolla No Out Out Stava Figurati Fa fatica A t'armi Sul tavolo Subiamoci Se stai in piedi Nell'acqua Ma cosa fai Me lo metti nel buco del naso Ma per cortesia Niente Però Tiene bene I cosi Penso che comunque Sì Viene venduta Costa anche da altre parti Ma il supermercato Solo che Costa di più Costa molto più Costa di più Quindi Vabbè Come prezzo Addo di 10 euro e 99 centesimi Se la trovate Acchiaffatela Perché vabbè Ne vale la pena Alla fine Anche per il surf Ne vale Poi Chi piace Il mold Nuovo Di Skipper A me piace Il mold Di Sharon E Nicole Quindi Mi piace quel mold Bello Con gli occhi grandi E molto bello Questo Mi sembra troppo Cartonato Troppo Non lo so Posso la mettere In giro E niente Allora Impressioni A questo prezzo Sì L'avrei presa Al prezzo Mamma mia Come lavora Mattello La rigata Vabbè La senza A me non ci facciamo caso Non dobbiamo guardare Tutte le cosine Perché se no Ne troverai Uffa Nel complesso È bella Dai mi piace Mi piace Un po' il visino Un po' tipo cartonato Però Ma a me piace Non ti piace Dai non è male Sì sembra uscita da un film Proprio Dai non è male Magari mi innamoro Poi E Skipper È lo più Per il momento Non è Skipper È lo più Ecco Tu l'avresti comprata? Sì Che faccia Come avesse Perché? Va bene Niente È bella Scusa Molto bella Anche i vestiti Sono ben fatti Molto curati E niente Perché i ciabattini Potevano mettergli un blocco Perché Guarda Guarda come tiene Tiene molto Tiene molto E anche Le articolazioni Tengono Niente Ragazzuoli Si può concludere qua Il video Spero che vi sia piaciuto Ricordatevi di andare Iscrivervi al canale Di Videosole di Plastica E Pachitto Magico Collezionismo Per vedere gli altri Unboxing Perché loro Sono molto Molto più Aggiornati di me Perché io non accappo Mai niente Una volta di morto Di papa Invece Loro Prendono più cose Anche da edicola Quindi le Ultime uscite Loro sicuramente Le avranno Subito Molto prima di me Quindi Se volete Essere aggiornati Su uscite Edicola Che vi piacciono Tutte le cosine Che escono in edicola Non solo Barbie Tutti i pupazzetti In generale Perché Videosole di Plastica Sergino Ha unboxato Anche altre cosine Non inerenti A Barbie Quindi Se vi piacciono Le cose Pucciucci 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 Quello è il canale Perfetto Per andare a vedere Tutte le Quelle Le uscite Che ci sono Almeno Quello che riesce A trovare Perché ogni tanto In edicola E l'altra Non si trovano Tutte le cose Niente Io vi saluto Con questo Perfetto Ma che fa Ma che fa Vi do appuntamento Al prossimo video Portate pazienza Mi state dicendo Della famiglia Fontana Arriverà Arriverà Voglio finire La casa Perché voglio essere Tranquilla Che la casa è finita Che posso fare Le puntate Nella casa Anche perché Se non Simone Ho chiesto un aiuto A fare Delle cose Per la puntata E non le vuole fare Quindi me la devo Smazzare io Come sempre Se Simona non lavora Io non ho aiuti Quindi sarà molto più lunga A fare le cose Bacione Ciao ragazzi E me lo saluta Ciao 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 Ciao